Ha perso soltanto tre volte, esattamente come Cavese Nardò, ma paga a caro prezzo i tanti pareggi accumulati nel corso del campionato, ossia a 15 un record per il Girone H di Serie D. Per il Casarano i rimpianti legati a questa stagione non mancano, almeno per quanto riguarda le ambizioni iniziali e la qualità del suo organico, che tuttavia è venuto meno sotto l'aspetto della continuità. Così si spiegano gli attuali 14 punti di distacco della vetta, anche se nulla è ancora chiuso o perduto, perché adesso ci sono i playoff da blindare e magari vincere. A quattro giornate dalla fine vi sono infatti quattro punti di vantaggio sulla team Altamura e fare il vuoto sui Murgiani sarà fondamentale. Missione non facile perché la prossima avversaria è proprio quella Cavese Schiacciasassi che sembra avviata alla vittoria del campionato. La formazione rosso-azzurra deve puntare al massimo risultato, anche per cancellare in fretta la delusione maturata nell'ultimo derby salentino disputato contro il Nardò. I Granata, paradossalmente, sperano in un risultato positivo dei rivali di sempre per alimentare ancora concretamente i sogni di gloria. Insomma, chi l'avrebbe mai detto? Gli uomini di Foglia Manzillo possono essere arbitri per la lotta al primo posto e le motivazioni comunque non mancano. Compie intanto vent'anni esatti Salvatore Carotenuto, portiere classe 2003 che ha ripreso il suo posto tra i pali da ormai tre partite e dopo un'assenza di poco più di due mesi. Per lui sin qui quattordici presenze in campionato.